salve amici di facebook e di youtube come potete vedere è nata la mia nuova pagina ufficiale si chiama giuseppe sena official page official page quindi non vi resta che andare a cliccare qua dove io ho già cliccato e voi entrate in questa pagina e troverete scritto mi piace voi andate a cliccare e poi mi fate questa cortesia di andare a cliccare sulla mia nuova pagina ufficiale ok che già a quante persone hanno già cliccato un attimino soltanto già sei persone già sei persone quindi che dico che mi sono confuso già quattro persone hanno cliccato su mi piace che la mia nuova official page quindi niente che dire non mi resta che dirvi di andare a cliccare anche voi sulla mia nuova pagina sia voi amici di facebook e anche voi amici di youtube e di google ok ciao andate a cliccare sulla mia nuova pagina ok ciao